di questi emendamenti che abbiamo proposto. E purtroppo, il Presidente Malancio, questo tema di un momento, non ha detto che il Presidente Malancio... La vostra insofferenza verso il pluralismo, la vostra insofferenza verso la mediazione, la vostra insofferenza verso il Parlamento, la vostra insofferenza verso tutto. È evidentissimo, è evidente nella verticalizzazione e nelle politiche. È evidente nella modificazione del Parlamento e nella sottoposizione del Parlamento e del Presidente. se non avversione alla magistratura come potere chiamato a mitigare e a limitare le prerogative della maggioranza. al prossimo episodio Grazie.